L'Aiti, il dessert nazionale, lo street food rinfrescante per eccellenza, è il fresco. Quindi oggi per voi niente di più facile fare un fresco. L'obiettivo degli ultimi anni nel cocktail bar è quello di arrivare ai nostri clienti con delle ricette non scontate, con una tempistica un pochino più veloce. Facendo ricette nella vita, quello che faccio è cercare di trovare il giusto equilibrio. In questo caso ho preparato tre ricette diverse per esaltare i tre clareni. Sajus, estratto di basilico e lime fresco. Babali invece è una versione più dolcina, più morbida, con mandorle diavola. Kazmir con peperone rosso disidratato e olive di ferrandino. Salute a tutti, ciao! Grazie. 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 Grazie.